La Paul Horn Game A di Tubinga sviluppa e produce dal 1969 utensili per tornitura e fresatura di gole, oltre a essere leader nella lavorazione fra due fianchi. Produciamo utensili di precisione che soddisfano tutte le esigenze. Al fine di offrire solo la miglior qualità, siamo autonomi per quanto riguarda la sinterizzazione del metallo duro che sul mercato si posiziona ai massimi livelli qualitativi. Soddisfare le esigenze dei clienti costituisce un presupposto essenziale del nostro successo. Cura e precisione sono alla base di ogni nostra azione. Già in fase preliminare, ogni prodotto è sottoposto a una verifica totale. In quanto produttori, abbiamo una responsabilità particolare e per questo tutte le fasi produttive sono pianificate, sviluppate ed eseguite con grande cura. 900 addetti qualificati e altamente specializzati, operanti su di una superficie di produzione di 20.000 metri quadrati, garantiscono il rispetto delle nostre direttive di qualità. Ogni addetto contribuisce col suo lavoro alla realizzazione delle nostre idee. Investiamo in modo consistente e mirato sulla formazione. La nostra scuola interna è unica quanto a dimensioni e qualità. Con i nostri 15.000 utensili standard per oltre 85.000 applicazioni, da anni siamo al vertice dei processi tecnologici per asportazione truciolo in Germania e nel mondo. Per rimanerci, la Horn investe nelle tecniche di produzione e negli impianti più moderni. Gole, troncatura, fresatura di scanalature, fresatura in copiatura, foratura, lesatura e stozzatura di precisione possono riuscire solo grazie alla qualità degli utensili Horn e delle loro peculiari geometrie. Il rivestimento dei nostri utensili richiede un complesso trattamento che garantisce la qualità straordinaria dei nostri prodotti. Le applicazioni delle nostre soluzioni sono molteplici e vanno dall'industria automobilistica con il suo indotto alla costruzione di macchine utensili, all'aviazione e al volo spaziale, all'idraulica e alla pneumatica, alla produzione di gioielli e all'industria medicale. Nessun utensile esce dalla Horn senza essere collaudato. In caso di necessità siamo in grado, grazie al sistema Greenline, di consegnare uno speciale entro cinque giorni dalla data dell'ordine. Nello sviluppo e nella produzione contribuiamo al rispetto dell'ambiente grazie a un sistema di management dotato di certificazioni di primo livello. La tutela dell'ambiente è un elemento imprescindibile nella politica aziendale della Horn. I nostri prodotti sono sempre accompagnati da un servizio e da una consulenza di altissimo livello. In tal modo riusciamo ad essere un partner prezioso e redditizio per ogni cliente. Se si tratta dello studio di un nuovo ciclo di lavoro, offriamo pacchetti completi che vanno dalle strategie di lavorazione all'addestramento del personale. Se si tratta di innovare, teniamo conto di tutti i fattori del successo. Il know-how della Horn consente di trovare soluzioni rapide e individuali anche per utensili speciali, per ogni cliente in tutto il mondo. Lo garantisce la nostra rete di distribuzione presente in oltre 70 paesi. Horn vuol dire avanguardia tecnologica. Horn vuol dire avanguardia tecnologica.